Un normale annuncio di cartomanti fra i tanti che compaiono sulle pagine dei giornali di gossip. L'invito a chiamare è sotto le tariffe del servizio 0,79 centesimi al minuto. Una signora sanbenedettese sulla Trentina che sta passando un periodo di stress psicologico compone il numero e la voce la reindirizza su un'altra linea. Da lì in poi comincia una giornata passata a ridigitare quei maledetti codici fino a quando a casa arriva una bolletta astronomica, ben 11.000 euro. Nel tabulato telefonico si evidenziano centinaia di telefonate effettuate in sole due ore e mezza, ognuna delle quali aveva un costo alla risposta di 12,50 euro, una cifra completamente diversa da quei 79 centesimi promessi nell'annuncio. La donna però non ci sta e si rivolge all'avvocato Gabriella Ceneri e così si apre il processo. Il reato è stato contestato venerdì dal PM a Ciaccaferri dinanzi al giudice Filippiello. Si può parlare infatti di una presunta truffa ai danni della signora che ha chiamato la cartomante. Nel caso di specie portato all'attenzione del giudice, la dottoressa Filippiello del tribunale di Ascoli Piceno, la sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in realtà il reato contestato è tentata truffa. Sicuramente la truffa si sarebbe consumata pienamente qualora la TECOM avesse portato a compimento l'azione di riscossione delle somme sulla base di una fatturazione che è risultata assolutamente spropositata in relazione a quello che era il numero, il corrispettivo richiesto per un minuto di conversazione telefonica. Quanto si chiedeva sull'inserzione? Ma sull'inserzione che poi tra l'altro la signora ha consultato soltanto per l'accesso di un primo numero, che si riferiva appunto alla chiamata generica, si trattava di 0,79 centesimi al minuto. Il 17 aprile ci sarà la prima udienza del processo e si cercherà di capire se la società che gestisce questi servizi di telefonia e magia abbia messo in atto volutamente la truffa. Nel frattempo il consiglio che l'avvocato dà è quello di prestare sempre la massima attenzione a questi annunci truffaldini e qualora il loro contenuto dovesse essere diverso dall'addebito sulla bolletta, l'invito è quello di rivolgersi immediatamente alle autorità giudiziarie.